Ciao scheletrine e scheletrini! In questa esplorazione vi porto in una villa appartenente a un direttore d'orchestra con una stanza molto molto colorata, quindi sigla e video! Ciao a tutti, oggi io e il Pink Fluffy Unicorn siamo alla villa del direttore d'orchestra quindi una villa di campagna che a essere sinceri ha di bello solo questa stanza quindi seguitemi in questa nuova esplorazione Eccomi qua in una nuova esplorazione, questa volta nelle remote campagne della Romagna Di questo luogo ci sono solo poche e frammentare informazioni e tutti i documenti sono proprio all'interno di questa casa quindi in giro troverete spartiti, musicali e quant'altro perché questa villa apparteneva a un direttore d'orchestra Ormai sono presenti palesi segni di cedimento tant'è che ho dei passi molto incerti durante l'esplorazione Grazie a tutti! Grazie a tutti! Già dai primi minuti capisco che questo luogo abbandonato non mi trasmette chissà che emozioni piacevoli Anzi, ho trovato quest'urbex piuttosto noioso ma io non sono una grandissima amante delle cascine in campagna però appunto ero già vicino e ho detto vabbè facciamo anche questa esplorazione ve lo dico senza troppi giri di parole E poi soprattutto per far capire a una che fa urbex che io le coordinate le riesco sempre ad avere visto che lei faceva tanto la preziosa per questo posto in questa stanza dal pavimento cedevole ho trovato un sacco di documenti riguardanti appunto questo direttore d'orchestra ma anche tantissime macerie e oggetti buttati alla rinfusa Grazie a tutti! Ecco qua la famosa stanza colorata adesso vi apro la finestra e vi faccio vedere meglio ecco qua devo dire che questa è molto carina, molto colorata ma soprattutto hanno catturato la mia attenzione le sedie perché le decorazioni dei cuscini sono davvero accattivanti vi faccio vedere meglio da vicino sono tipo dei pierrot adesso non ho ben capito ovviamente valigia, andiamo a frugare sapete che sono un'impicciona ma non c'è niente di che fogliacci altro spartito e me ne esco da qua già che ci sono vi faccio vedere gli edifici circostanti ormai qua la natura si è ripresa i suoi spazi ed è praticamente impossibile entrare e lo stesso discorso vale per questa casufola dalla facciata incontro sole e da questo balconcino romantico vi ringrazio per la visione la maledita Feliz l'esplorazione alla villa del direttore d'orchestra è terminata spero vi sia piaciuta a me onestamente non tantissimo quindi io e il Pink Fluffy Unicorn vi salutiamo iscrivetevi al mio gruppo Facebook Curvex for Passion e seguitemi su tutti i social come la maledita Feliz alla prossima esplorazione ciao ciao